Spazi raddoppiati, più tecnologia e molti più servizi. Grazie ai lavori appena terminati, la farmacia di Sant'Orso gestita da Aset S.P.A. è sempre più un punto di riferimento per i residenti del quartiere e per tutti i fanesi. Abbiamo capito quella di importanza da un po' di tempo i servizi che possono essere erogati sul territorio. In più siamo interessati anche a quest'area, il quartiere di Sant'Orso, il più popolato di Fano. Riteniamo che ci debbano essere tutti quei servizi per i quali la gente si muova di meno e possa avere sotto casa alcune tipologie di strutture e di servizi di cui godere. Quindi l'occasione è stata ghiotta perché potevamo avere la possibilità di ampliare i locali della precedente farmacia e quindi abbiamo deciso di fare in modo di raddoppiarli. A raddoppiarli nello stesso modo abbiamo cercato e siamo riusciti a evitare che ci fossero interruzioni di servizio e quindi abbiamo avuto un periodo nel quale vengono fatti questi lavori di ristrutturazione che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi e quindi abbiamo salvato, come si dice, caprecavoli. Cioè abbiamo portato avanti una ristrutturazione più che dignitosa di questi locali e in più abbiamo anche assicurato al quartiere la continuità appunto dell'attività della farmacia. Non si è trattato di un semplice restyling ma di un rinnovamento vero e proprio in quanto a dimensioni e opportunità. Grazie anche a questi nuovi spazi avremmo attivato anche una sala di consulenza dermocosmetica dove pensiamo di andare ad attivare delle giornate dedicate di dermocosmesi con delle linee proprio specifiche anche per problematiche legate alla pelle. In più grazie proprio alla nuova stanza che è stata adibita ai servizi di autoanalisi, anche di oltre pressorio andremo ad attivare tutte queste cose anche qui a Sant'Urso. Elettrocardiogrammi, misurazione di colesterolo, glicemia e trigliceridi ma anche prestazioni infermieristiche e consulenze. Merito dei nuovi spazi certo, ma soprattutto della preparazione di chi in farmacia ci lavora ogni giorno. Personale formato, giovane, in grado di dare tutte le risposte alla clientela, anche quelle più innovative. Infatti il futuro che noi pensiamo per le farmacie ma anche per il farmacista e di un professionista sanitario capace di risolvere qualsiasi necessità in termini di consulto ma anche di nuovi servizi. I nostri farmacisti stanno tutti in forma di abilitazione per i nuovi servizi innovativi pensiamo abbiamo anche uno stock, un nuovo numero di farmacisti vaccinatori che saranno disponibili per tutte queste nuove sfide che ci presenteranno. E non è tutto, perché nel sotterraneo vi è un'innovativa new entry un robot in grado di gestire il magazzino velocizzando l'erogazione dei medicinali ma anche controllando scadenze e posologie. Il nostro robot ha permesso di ottimizzare tanti servizi e di guadagnare tanto spazio al banco quindi di dedicare maggiore tempo al cliente perché comunque abbiamo dimostrato che nel tempo il ruolo del farmacista e l'ascolto del farmacista è diventato un ruolo molto prezioso per la gente. Questa inaugurazione è un ulteriore passo in avanti l'ampliamento di una farmacia importante in un quartiere importante ma è un'azione strategica perché sempre più le farmacie diventano un punto di riferimento per una comunità. Una nuova farmacia rinnovata tecnologicamente avanzata perché hanno dei sistemi anche organizzativi fortemente innovativi quindi è una bella risposta è una giusta risposta per avvicinare sempre più le persone ma per avvicinarsi anche alle persone. Sappiamo che oltre a consegnare medicinali sono anche un punto di riferimento per delle consulenze e per dei suggerimenti quindi una bella cosa e ASET ha dimostrato di avere ben chiaro i suoi obiettivi. La nostra azienda pubblica rappresenta anche in questo caso un punto essenziale per le strategie e le politiche di questa città e la rinnovata struttura della farmacia comunale di Sant'Orso rappresenta esattamente questo un ulteriore presidio e servizio per i cittadini che migliora non solo in spazi ma anche in tecnologie e in capacità di risposta al cittadino. Oggi è una giornata importante non solo per il quartiere di Sant'Orso ma per tutta la comunità fanese perché migliorano i servizi delle farmacie farmacie che in questo anno così difficile e complesso sono già state e hanno dimostrato di essere un importantissimo presidio di salute e di sanità sul nostro territorio e anzi in questa occasione credo che sia giusto a nome dell'amministrazione comunale di Fano ringraziare tutto il personale delle farmacie comunali di Aset perché veramente hanno rappresentato un punto di riferimento importante per tutti i cittadini e per tutte le cittadine.